A Giulianova, a causa della mancata risposta da parte dell'ufficio regionale competente, essenziale per poter impiantare il cantiere e avviare i lavori, i titolari dei caliscendi nella parte finale esterna del molo sud del porto da mesi in attesa di una risposta sono sul piede di guerra. Strutture che ricordiamo furono smantellate diversi anni fa dall'autorità marittima e che ora, nonostante tutto l'iter fatto per aver i permessi per ripristinarli, i lavori sono nuovamente fermi al palo perché manca la disponibilità di un'area di cantiere adiacente dove raggruppa rattrezzature e materiale utile per la loro realizzazione. Guardi, questa è una storia che ci vorrebbero veramente delle ore, quindi non le avete voi per raccontare. Basta dire semplicemente che parte al 1995. Nel 2000 il Consiglio Comunale di Giulianova all'unanimità mise una delibera che impegnava il Sindaco e la Giunta a fare di tutto per poter ripristinare i caliscendi che erano stati demoliti. Nel 2010 è stata fatta la legge regionale, è stato fatto un censimento, siamo stati individuati come i caliscendi che dovevano essere ricostruiti. Non basta ciò, abbiamo fatto la domanda, la Regione si è tenuta nel cassetto per oltre un anno le nostre domande, tanto per essere molto sintetici. Siamo stati costretti a fare ricorso al Tarre contro la Regione, la quale alla fine ha aderito a fare un atto che era dovuto, tant'è vero che abbiamo poi rinunciato a ricorso al Tarre. Finalmente c'è stata data la concessione di maniale. La mia concessione di maniale e quella degli altri risale dal 2018. Dal 2018 io pago la concessione di maniale, io e gli altri concessionari. Nessuno ci risponde. Abbiamo sollecitato tramite il nostro tecnico l'ultima volta l'altro giorno. Ho sollecitato io personalmente l'ufficio con una lettera accorata nella quale dicevo che per noi questa situazione non è solo costruire un caliscendi, ma è anche coronare un sogno e anche rincontrare chi ci ha preceduto che stava lì con noi a pescare. Io ho il caliscendi pronto da costruire e non è solo per me, perché queste strutture sono un bene per Giulianova. Questa volta non si può tollerare, perché sono disposto ad arrivare alle estreme conseguenze. Anche, lo dico perché lo farò, non è una minaccia, ma è una promessa, anche la denuncia penale, perché esiste un reato, io faccio l'avvocato e quindi queste cose le tratto quotidianamente, che è l'omissione di atti d'ufficio. Dopo 30 giorni se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non risponde e non giustifica i suoi ritardi, commette il reato di abuso di atti d'ufficio. Mi dispiace, ma io arriverò anche a questo.